lunedì 22 gennaio 2018 Carles Puigdemont è di nuovo candidato e presidente già uscente della catalogna indipendente ma in questo senso costituzionalista roger torrenti il presidente della mesa del parlamento ha chiesto a mariano raccogli un incontro e un dialogo la debolezza degli indipendentisti è che devono avere in qualche modo uno spazio di trattativa da parte del governo centrale la debolezza del governo centrale è che dopo essere andati alle elezioni la maggioranza non è cambiata ma ha confermato una maggioranza indipendentista al parlamento di barcellona come fare servono dei mediatori e sicuramente serve la possibilità che questi processi in europa possono avere dei canali di gestione in corsica oggi finalmente gil simenoni e jean gui talamoni leader autonomista indipendentista della corsica incontrano a palais matignon presidente del del governo il capo del governo finalmente per un nuovo statuto sulla corsica che cosa succede in europa le piccole nazioni si stanno risvegliando